Carla Solinas è una delle più forti giocatrici italiane e ha scelto questo torneo a Rosvadov 199 euro di buy-in. Come mai questa location hai voluto provare? Decisione last minute grazie ad amici che mi hanno portato qui da un giorno all'altro ben deciso saliamo veniamo a fare il torneo di bet 11 28 e siamo saliti. Li ringrazierai? Spero di sì. Per ora vedo che c'è una bella pila di chip davanti a te oltre degli occhiali gialli importanti. Le chips sono piccole fanno scena gli occhiali gialli sono un portafortuna e quindi speriamo bene. Allora come ti sembra questo torneo ti confronti con tanti giocatori stranieri cosa che peraltro hai fatto nella tua carriera perché è una carriera importante? Il torneo è molto ben organizzato è veramente pieno di gente c'è un numero pazzesco di persone e è una struttura stupenda perché ultra deep permette di passare un day uno divertendosi veramente di ci si può prendere qualche scopo lo si può rialzare quindi va benissimo veramente bello. Io ti lascio sedere che magari arrivano quando è? Speriamo!